Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video degli XGamer quest'oggi siete in compagnia di Marco, Mario e Michele. Oggi ci vedete in tre per dei motivi che penso che sappiamo. Oggi ci vedete giocare a FIFA, un mini-tornio, la prima giornata e tra in casa abbiamo lui e fuori casa abbiamo lui. Con il Manchester City. Vediamo se quest'oggi vabbè Marco si deve mettere a Cristiano Ronaldo se non è lui. Vabbè, io gioco con un'azionata. La prossima giornata sarà tra chi perde e Michele. Quindi Marco e Michele sicuramente. Ovviamente il vincitore esce. Riposa, va direttamente alla finale. Il vincitore va direttamente alla finale. Le squadre si scelgono alla pioggia. Le squadre sono sempre quelle. Se ti sapete le squadre si rammatite, le squadre si rammatite. Vabbè, io mi prendo la giubestabia. Vabbè, io mi prendo la giubestabia. Vabbè, io mi prendo la giubestabia reale. No, io vado a prendere il trapani, ci fai quello che vuoi. Fa' panito, poi. Io penso che io la odio. San Diego e Bernabeu. Io fa posta. Bernabeu. Puntque se notate, il bleffatore è matto, ha attaccato pure la schermata sotto, il radar, proprio per abbandaggiarsi. E' proprio un Mario World. L'angolo, l'angolo. Fai questo gioco, bug di testa, bug di testa. Sì, bug di testa, che sei. Mezzo! Beb! Ben semmo, ben semmo. Vai via. Ma perché? E' parte lui! Fai il gol! No. E' buona per il gol sportivo. Ma che non sono buona, che non ci riesco. Si vuole. Va bene. L'ha visto. Madonna! Che apertura! Che deve fare da ora! Che c'è da più. Io ho capito. Io ho capito. Io ho capito. Ho capito. Visi. Vai bello. Ancora il fianco marocchino. Più marocchino che franco. Lo spregiato. Ma RATE! 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 Chi è che è il signore? GARDBELL! Una terra! Eh vabbè ma... Guarda oggi è solo Stuma Solo Stuma Solo Stuma E? Il gioco? No! Non lo voglio vedere Ma dove? Centimetro Ma... Nella realtà non avrebbero dato No... Ma perché la sotto non si vede? Non lo so La sotto non si vede? Il Kun Aguero? Si Kavaka Pabio Contrao? Dio RATE! 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 E' una 1! Si riapre il match RATE! Attenzione Mi cosa si ferma Non ci 못 si facile L'affermato 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 Che cosa fare? esistono esistono la storia di dirlo non so non te l'hai scelto scuola senti le indiretta oppure scuola siti io invece non prendermi da scuola al bacio no ma fa un messina me il tuo tuo grazie a me no come la foto di marco per un po' tuoi sembrava quando registrano quelle parti storie di che assento si vede il centro ah si, ma io Maria eh la Maria la mia la mia la mia non è una roba che c'è la mia la mia amica no che si lo conosce ma smettiti di dire cazzano inserimento sinistro ma sei davvero lì che c'è mezzo da chi c'è sta non c'è nemmeno che gioca vada ronaldo vado ronaldo non ti prendono più parlo 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 la mano addiria pochi abbandyst에서 parlo vai va parlo 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 fatti porta parlo lascia una cosa che trova Nero sembra, non si vedeva più la parte, prendila, dov'è, ecco la palla che mi dica sorpresa, 2 o 3 minuti di recupera, Madda, Pezzemal, Karim, Karim, che fra, ok, continuo per me, tu, per colpa della palla, 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 2 o 1, cioè per la palla così, perché, mentre c'è la pioggia, controllo di palla fare a 0, ma vedi, vedi come si, non è da sottolineare vediamo il gioco in gioco in te lo sogni ma appunto lo dino no 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 perché posso troppo ed è qui dai c'è bucato azioni di fai simulati ad un gioco sticca vada la barriera 10 metri in avanti restate come l'altra macchina ma l'avevo pirlo vabbè pirlo è un conto la chiami pensavo uno nero il scotch e caramallo sono disegnato solo con la terza campo processo sono la parola sono ticcio poi è nato tic tacca tic tacca scuola e sante il gioco ecco la tic tacca tic tacca tigli con la fabbotti c'è ancora la cina macchina che viene sciapolata morbida e di te la saluto piccinigli sbaglio casilla la cina attenzione ancora lui la finta di ronaldo la finta di ronaldo la finta morbida hai visto che stanno piccinigli sceglie non va si va a seguire fai crudet e no se gioca un milan lecchio bello Mario dopo prendete il milan no se prendete il milan io posso fare la finta di crudet no se lo fa la cina se lo fa la cina c'è oh è il rigore a te ogni cosa è il rigore mi ha dato il pugno in volta si Mauro Mauro ah no Maurito è caro rosso rosso a me si si segnala da là me ne vado un tribuno un un di essere più scarso del mondo fifa non si vado a fare bene vado a fare bene grazie a destra a destra gritta a destra la scaffata 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 dov'è? ah sono io ah ah te sorpresa oh ancora attenzione attenzione macchinosa prova l'azione personale a destra il tiro il tiro il tiro il tiro no no attenzione come è? oh schiacci che com'è? schiacci schiacci notte no ci ha avanti il replay eh schiacci no no ma dai un po' di me azione macchinosa è bassa azione per usare c'è paura la moffina l'ho sparata attenzione c'è paura in mezzo testa si sbagliava bug di testa cos'è che si è finita la partita eh passiamo direttamente i rigori passiamo direttamente i rigori non facciamo né supplementari né cold and goal né classico tutto liscia come no i rigori come la team cup attenzione gli spalti prova attenzione prova la parola l'isca furibonda l'è visto nessuno che sale tutti fermi che culo non va non va non va non va yes c'è c'è ancora il bag di testa il bag il bag di tira no no sono brividi per marco che sta fare già due a due così è stato il bag di testa il bag di testa il bag di testa con il braccio l'apparata col braccio sei visto che vuoi non farti saltare che ci vuoi non farti saltare che chiun è tre minuti vittimi tre minuti e qui ci sarà il il bag di testa il bag di testa il bag di testa questo tiro è malato malato ma che cazzo che cazzo fai vai sbagli dopo l'alto non ci credo l'attività venduta venduta calcio scommesso attenzione arriva e vince e vince 3 a 1 partita più vendita di un bonzi bonzi casetta vabbè che c'è da dire ci vediamo al secondo episodio del del mini torneo sarò io giocare contro pichele perché ho perso in macchio direttamente in finale tra di noi arriverà direttamente virale insomma iscrivetevi al canale mi piace anche un commento su dei consigli abbiamo un canale facebook metteremo tutto il link dove l'amato qui sotto bene ragazzi ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti